Fare una previsione di come cambierà il cibo nel prossimo futuro oggi non è facile, anzi la maggior parte degli esperti ritiene che per i prossimi 30 anni non ci saranno cambiamenti radicali, significativi. Però se dovessimo semplicemente leggere le tendenze del consumo che si affermano, possiamo immaginare che ci sarà un cibo sempre più salutistico, vale a dire un consumatore che ricerca impietanze di ingredienti più leggeri, meno grassi, meno zucchero, il cibo sarà più verde, sarà più sostenibile, e quindi il gusto verde, il cibo dell'orto, il cibo del chilometro zero, il cibo sarà globale, quasi il 50% degli italiani ritiene che i cibi etnici possono essere una valida alternativa a quella che è l'alimentazione italiana. Il cibo sarà comunque sia un cibo non troppo elaborato, sia che si vada al ristorante, sia che si compri un prodotto confezionato, una lista corta degli ingredienti e delle pietanze che riportino un po' alla storia. all'origine del cibo, ma sicuramente il cibo sarà consapevole. Il cibo cioè deve essere un qualche cosa che il consumatore assume con la consapevolezza di sapere quello che mangia.